ciao a tutti benvenuti o bentornati miei carissimi oppo creativi in questo canale sono vincenzi e oggi vorrei mostrarvi questi due articoli che vi ho mostrato in maniera migliore in questo video al solito metto qui la scheda e giù in descrizione il link diretto se siete interessati vi avevo detto in quel video che li avremmo provati insieme infatti sono ancora chiusi questo è proprio chiuso chiuso e faremo una prova è una stilografica io adoro le stilografiche poi sono belli anche i colori bellissimi molto bella andiamo un po aspetta chiudiamo di qua apriamo abbiamo un refill che hanno dato in dotazione mi ricordo che nelle penne stilografiche quelle piccoline che usavo tanto tempo fa le cartucce erano la metà così piccolina nella parte in questa parte andiamo a caricarla passa sempre un po di tempo prima di che l'inchiostro arrivi facevo in questo modo per fare arrivare prima l'inchiostro non so se sia corretto da farsi ok è arrivato qui c'è una plastichina chiudiamo in questo modo si vede a che punto è arrivata la cartuccia ora prendiamo un foglio e proviamo questa penna ah bellissima a parte che il colore è bellissimo molto bello e poi non sembra qui c'è scritto che è una 0 5 mm ma sembra molto più doppia passa un po il foglio ma leggermente cioè si nota però non lascia proprio il segno quello forte della penna spirito ora passiamo ai colori ecco i colori giallo facciamo in questo modo giallo scuro vediamo quando si asciugano come rimangono i colori se rimangono sempre così forti rosa albicocca rosa rosa ecco fatto questi sono i colori sembra che stiano il colore sia rimasto quello di della della scrittura e leggermente si si schiarisce un po non tutti però perché questo è rimasto proprio uguale ad esempio questi tre questi due sono rimasti uguali anche questo questo un po questo è quello albicocca vediamo un po dietro dietro un po esce fuori diciamo il colore poi fra qualche giorno vediamo se rimane così brillante diciamo il colore io spero di avervi fatto una compagnia colorata che vi sia piaciuto questo video che magari vi possa essere utile è sempre grazie per passare qui da me per stare un po in compagnia alla prossima ciao un po creativi ciao al solito metto qui la scheda e giù nel nella avevano le cartucce erano praticamente la metà ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!